Abbiamo presentato questo progetto, è un vassoio innovativo in cartone ondulato, nato da una sfida lanciata durante un meeting tra la R&D e la Forza Vendita. La Forza Vendita ci ha chiesto un vassoio che sfruttasse al 100% la superficie interna mantenendo però la prestazione in termini di robustezza e quindi da questa sfida è nata quest'idea, nel realizzarla ci siamo resi conto che avevamo tutta una serie di vantaggi, c'è la possibilità di poter inserire più pezzi all'interno del vassoio, quindi parliamo di più pezzi pallet, quindi meno movimentazione in magazzino da un punto di vista logistico. Il fatto che sviluppasse a livello proprio di materia prima meno cartone rispetto ai vassoi tradizionali, quindi lo rendevano più sostenibile perché si utilizza meno materia prima, ma più competitivo in termini di prezzo. Poi questo ci ha anche permesso di accrescere quello che è il nostro know-how in macchine, proprio di conoscenze di macchine, di know-how, di impianti, perché abbiamo collaborato con centri di montaggio, con macchine assemblatrici, formatrici, quindi che ce l'hanno fatto perfezionare sempre di più. E quindi alla fine abbiamo deciso di brevettarlo e siamo appunto in pieno lancio adesso con questo prodotto. A chi si rivolge principalmente? Allora, in effetti si rivolge a tutti quelli che devono inserire dei prodotti all'interno di un vassoio, quindi pensiamo al settore ortofrutticolo, pensiamo anche a qualsiasi settore, quindi non solo food ma anche no food, perché ciò che abbiamo brevettato è proprio questo sistema innovativo. Quindi chiunque ha bisogno di un vassoio per conservare e proteggere i propri prodotti. Ultima cosa, per Sada che cos'è l'innovazione e la parola open innovation? Cosa le suggerisci? Sicuramente è un mettersi in discussione a 360 gradi, cosa che noi facciamo, soprattutto è più di un anno che è nato un vero e proprio dipartimento di ricerca e sviluppo. Quindi anche se con grande passione e con grande entusiasmo cerchiamo appunto di scoprire sempre di più nel mondo del packaging, sia primario che secondario. Come dicevo, è sempre una messa in discussione sul fatto che se sei fermo sei perduto, quindi è importante avere continue sollecitazioni dall'esterno, dal mercato. Questo è molto importante per noi per andare avanti e per essere sempre più competitivi. Comeditivi